SOS Futura molto pesanti perché parlano di una situazione praticamente di invivibilità e parliamo di Catania centro. I residenti sono esasperati, non riescono più a sopportare quotidianamente angherie che sono praticamente permesse da chi è preposto al controllo perché non si spiega diversamente. Il centro storico, secondo le immagini che tra poco vi proporrò grazie ai colleghi della regia, è diventata una giungla, una casba, un terreno e un centro dove è permesso tutto, tutto e quando dico tutto, attenzione, non voglio limitarmi, delinquenza, criminalità, prostituzione, macellazione di animali a cielo aperto, tracottanza, prevaricazione, arroganza, violenza, ragazzi armati. Allora voglio dire, noi viviamo a Catania e devo dire francamente che coloro che abitano il centro storico sono degli eroi, ma sono delle vittime, sono succubi anche della stupidità di parecchia gente. Perché tanti non riescono nemmeno a capire, ad immaginare come si può vivere all'interno di un centro storico vessati quotidianamente. Vessati quotidianamente perché c'è una mancanza di controllo, mancanza di controllo delle forze dell'ordine in generale, o meglio ci sono le forze dell'ordine, ma allora perché non si interviene? Perché non si bonifica una situazione inaccettabile? Dobbiamo aspettare che ci siano morti, feriti, stupri, delinquenza? Noi queste dichiarazioni le facciamo da diverso tempo, perché è da diverso tempo che con SS Futura andiamo con le nostre telecamere a riprendere il degrado generale di una situazione imbarazzante. Ma non cambia nulla, rimane tutto uguale. al limite della sopportazione. Voglio farvi vedere delle immagini ora, tra poco ve le proporrò, che sono veramente assurde. Perché vedete, quelli del centro storico, che sono abitanti di Catania, quindi hanno diritto di vivere a Catania perché pagano le tasse, rispettano le regole, hanno le residenze. Loro sono costretti a vivere in questa situazione di abbandono, di degrado, di mancata percezione della legalità, mentre coloro che nei quartieri limitrofi o che stanno nei paeselli o nelle villette comodamente seduti a casa, dicono che tutto bisogna permettere, e allora sacrifichiamo le nostre vite con il bonismo, liberi tutti, siamo tutti liberi di essere, di spogliarci nudi, farci il bagno nelle fontane, girare, a lavarsi in pieno giorno nelle piccole fontanelle ancora esistenti, appendere animali a testa in giù per proprie tradizioni popolari. Noi siamo in Italia, siamo a Catania, non siamo in Africa. Cioè questo non bisogna dimenticarlo, bisogna dirlo a chiare lettere. C'è una popolazione che subisce questa prevaricazione, non la subiscono in tanti. Allora, qualcuno ha pensato di non mettere queste immagini. Io vi dico, questa immagine la voglio fare vedere perché la voglio condividere con tutti, perché non deve essere solo un'opzione per coloro che abitano il centro storico. Gli altri invece, poverini, sono suscettibili. Ebbene, questo accade a Catania nei pressi della stazione ferroviaria. Il quartiere vecchio di San Berillo, che poi tra l'altro perché si continua a parlare di quartiere San Berillo che non esiste più. È il centro storico, lì bisogna bonificare. Ci sono palazzine che praticamente sono, che da un momento all'altro possono crollare. E sono invase, abitate da tanta gente che purtroppo non ha altro ricovero. Perché noi li abbiamo accettati, fatti arrivare tutti per poi posteggiare dove? Nel centro storico. Lasciati liberi di fare quello che vogliono. Questa è l'accoglienza. Questa non è accoglienza. Questa non è accoglienza. Perché tu fai un danno all'oro, perché li metti lì come poveri animali chiusi in un recinto e non gli dai la possibilità di vivere realmente come dovrebbero. Ecco, questo non è che qualcuno ce l'ha con i migranti o ce l'ha con gli extracomunitari. Assolutamente no. Ma mettiamoli nelle condizioni di vivere. Non di essere poi avulsi in una situazione imbarazzante, vergognosa. Allora, io voglio farvi vedere queste immagini perché, attenzione, gli abitanti di questo quartiere, queste immagini, le vivono quotidianamente. E noi non possiamo girarci dall'altra parte. Questo lo dico al signor sindaco, lo dico agli assessori, lo dico ai comandanti dei carabinieri, lo dico a Sua Eccellenza il prefetto, lo dico al questore, lo dico alle forze dell'ordine. Basta. Cerchiamo di intervenire. Se ci vuole una task force, adottiamola. Se ci vogliono i militari, portiamoli, li bonifichiamo, liberiamo. Diamo la possibilità di vivere con tranquillità alla gente, ai bambini, ai ragazzi che vivono nel quartiere. Poi parliamo di microcriminalità. È chiaro, nel degrado generale la microcriminalità starnazza. I tossicodipendenti sono diventati ormai, diciamo, ostaggio di questi soggetti che vendono droga anche a basso costo. Questo tutto in quel quartiere. È paradossale, ma è così. Allora, io voglio partire da queste immagini. Sicuramente colpirà molto la vostra suscettibilità. Però è un piacere che vogliamo condividere con tutti. Perché vedete, quello che chi abita in quel quartiere subisce ogni giorno non lo può più tenere per sé. Ha bisogno di condividerlo. E allora, voglio fare partire le immagini. Questo è quello che accade a Catania, in una sorta di casba. C'è la festa del sacrificio. Queste sono immagini quotidiane postate da comitati di quartiere, da cittadini esasperati. Prostituzione, gente davanti alle porte che urla, che si lavano davanti alla porta, si denudano. Fanno cose inenarrabili, inaccettabili. Ci sono state coltellate in pieno centro ieri sera. Guardate, qua siamo in Corso Sicilia, in pieno centro, ambulanze, gente che scappa a destra e a sinistra. Lì è successo di tutto, di più. La gente che passa filma con il telefonino, cerca di portare alla pubblica fruizione quello che è il malessere che si sta vivendo. Guardate, lì ci sono sceneggiate ancora. E questa è una zona del centro storico dove magari qualcuno arriva dai paesi, arriva dalle comfort zone, scende per prendersi la granita, la pizzetta. Oh, che bello il centro storico. Sono immagini che chiaramente vi proponiamo nude e crude, così come le abbiamo ricevute da chi ci segue. Ecco, vedete, il centro storico è una casba, ci sono baracche, ci sono cose. E poi abbiamo anche le bancarelle all'interno di questa città dove c'è gente che vende qualsiasi cosa e sono liberi di fare quello che vogliono. E voglio dire, queste cose non sono, come detto, accettabili. Voglio andare avanti, andiamo avanti con le immagini per non insistere su quelle che abbiamo già fatto vedere. Ecco, questa è un'immagine nuda e cruda che toccherà sicuramente la vostra sensibilità. Qualcuno ha anche provato ad occultarla. No, questa non si deve occultare, questo accade a Catania. Io vorrei sapere, in questo caso, carabinieri, NAS, guardie di finanza, polizia, possono intervenire? Cioè, possono bloccare questo? Cioè, la macellazione di animali per strada in un centro abitato non è consentito, non è possibile. È assurdo. E questo vivono i ragazzi del quartiere. Questo vivono quotidianamente i ragazzi del quartiere. Certo, ora c'è la festa del sacrificio. Noi dobbiamo portare avanti le tradizioni. Siamo in Italia. In Italia. Questo è bene non dimenticarlo. Avete visto quell'immagine, nuda e cruda, di questo purtroppo, penso sia un capretto, appeso in un cancello in piena strada, in pieno giorno. Cioè, è una cosa che si può tollerare? È una cosa che si può tollerare, lo dico, alle istituzioni. Perché i cittadini sono vittime. I cittadini residenti sono vittime di questo, quotidianamente. Spaccio di droga, lo ripeto, prostituzione. E allora, che cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare per non far sentire i residenti del centro storico come residenti di serie Z? bisogna intervenire. E allora, che le forze dell'ordine si mettano insieme, facciano una task force, facciano quello che vogliono. Ma quella quartiere, quella zona, deve essere liberata. Non può essere continuamente in mano a questa gente. Perché prima, vedete, voglio far vedere una copia del giornale di avvenire. Vediamo se riusciamo, eccola qua. Allarme baby criminali a Catania, così i clan reclutano la mano d'opera. Ecco qua, sì, i media nazionali decidono di fotografare una situazione che a Catania ormai è emergenziale. Emergenziale, però, noi che siamo sul posto, siamo giornalisti sul posto, che viviamo la città, viviamo la realtà, ci troviamo a fare i conti anche con questo. Perché diciamo, ma come? Noi lo denunciamo quotidianamente, questo abbandono. Allora, vogliamo smuoverci? Vogliamo rendere vivibile questa nostra terra? E allora, a magli estremi, estremi rimedi. Cerchiamo di intervenire. Io voglio dire a coloro del comitato di quartiere che mi inviano filmati e anche vocali che sono chiaramente di allarme. Io ho provato anche ad andare in quartiera a cercare di filmare qualcosa, ma rischi la vita. Rischi la vita perché è terra di nessuno. È terra di nessuno. Allora, io mi auguro che dopo aver fatto questo OS Futura, e lo faccio con una rabbia, la rabbia del cittadino, non del giornalista, la rabbia del cittadino che non ha risposte. La rabbia del cittadino che vuole che cambi qualche cosa. E allora, ripeto, in chiusura, attenzione, evitiamo che possa succedere la tragedia, interveniamo, cerchiamo di bonificare, perché la gente del posto non ne può più. Io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione, continuo a essere a vostra disposizione, continuate a mandare i vostri filmati e speriamo realmente e veramente che qualche d'uno si intesti questa battaglia, la battaglia della legalità. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.